20. Signora, disse Jack Tomacek, se pensi che riusciremo ad attraversare quello, allora dovresti stare al manicomio. Sorella non rispose. Un vento feroce le stava soffiando in faccia dal fiume Hudson e lei strinse gli occhi per i sottili aghi pungenti di ghiaccio che stavano scendendo vorticando dalle nuvole nere sopra di loro, che si estendevano da orizzonte a orizzonte, come un velo funebre. Dei raggi di sole di un giallo malaticcio trovavano aperture tra le nuvole e si muovevano sul terreno come in un film di serie B su una fuga da una prigione e poi erano cancellati quando le aperture si richiudevano. Il fiume stesso era ricoperto da cadaveri, spazzatura galleggiante e dagli scavi carbonizzati di barche e chiatte che si muovevano tutti verso l'Atlantico a sud. Al di là del fiume terribile, gli incendi nelle raffinerie stavano ancora bruciando e un denso fumo nero si muoveva in un vortice sopra la spiaggia del Jersey. Alle sue spalle c'erano Artie, Beth Phelps e la donna spagnola, tutti avvolti in strati di tende e cappotti per proteggersi dal vento. La donna spagnola aveva pianto per la maggior parte della notte, ma adesso i suoi occhi erano asciutti. Aveva finito di piangere. Sotto la cresta su cui si trovavano c'era l'ingresso dell'Olan Tunnel. Era ingombro di veicoli i cui serbatoi erano esplosi, ma quella non era la cosa peggiore. Sorella vide che la cosa peggiore era che i resti di quelle auto erano immersi fino al volante nell'acqua sporca dell'Azon. Da qualche parte dentro quella galleria lunga e buia, il soffitto aveva ceduto. E il fiume vi stava scorrendo dentro, non abbastanza ancora per farla crollare come il Lincoln Tunnel, ma a sufficienza per rendere il passaggio uno sforzo pericoloso, per attraversare una palude di auto bruciate, cadaveri. E Dio solo sapeva cos'altro. «Non mi va di nuotare», disse Jack, «o di annegare. Se quel bastardo ci crolla in testa possiamo dire addio alle nostre chiappe». «Va bene, c'è un suggerimento migliore? Andiamo a est, verso il ponte di Brooklyn, o attraversiamo il Manhattan Bridge, tutto tranne là dentro». Sorella ci pensò per un momento. Teneva la borsa di pelle al suo fianco e all'interno poteva sentire il contorno del cerchio di vetro. In qualche momento durante la lunga notte aveva fatto un sogno su quella cosa con la mano ardente, che camminava attraverso fumo e rovine con gli occhi che cercavano lei. Temeva quella cosa, più della galleria mezza allagata. «E se i ponti sono spariti?» «Eh?» «E se entrambi quei ponti sono spariti?» ripetè con calma. «Guardati intorno e dimmi se pensi che quei ponti sottili potevano resistere a ciò che ha spazzato via il World Trade Center e l'Empire State Building». «Potrebbero. Non lo sapremo finché non vedremo». «E quello sarebbe un altro giorno sprecato. A quel punto la galleria potrebbe essere completamente allagata. Non so a voi altri, ma io non ho problemi a bagnarmi i piedi». «Ah ah», Jack scosse la testa. «Non entrerò lì per nessun motivo, signora. E voi siete pazzi se lo fate. Sentite, perché volete lasciare Manhattan comunque? Possiamo trovare cibo qui e possiamo tornare nel seminterrato. Non siamo costretti ad andarcene». «Tu forse no», concordò sorella. «Ma io sì. Qui non c'è nulla». «Io vengo con te», disse Artie. «Io non ho paura». «E chi ha detto che ho paura?» ribatte Jack. «Io non ho paura. È solo che non sono un fottuto pazzo, tutto qua». «Bet?» Sorella diresse la sua attenzione verso la giovane donna. «Tu che mi dici? Verrai con noi o no?» La donna guardò timorosa l'ingresso intasato della galleria e alla fine disse «Sì, vengo con voi». Sorella toccò il braccio della donna spagnola, indicò l'Holland Tunnel e fece il gesto della camminata con due dita. L'altra donna era ancora troppo scioccata per rispondere. «Dovremmo stare molto vicini», disse sorella a Beth e Artie. «Non so quanto sarà profonda l'acqua là dentro. Credo che dovremo tenerci per mano e attraversare in modo che nessuno si perda, ok?» Entrambi annuirono. Jack sbuffò. «Voi siete pazzi. Tutti voi siete fuori di testa!» Sorella, Beth e Artie iniziarono a scendere dalla cresta, verso l'ingresso della galleria. La donna spagnola li seguì. Jack gridò «Non ce la farete mai ad attraversarla, signora!» Ma gli altri non si fermarono né si voltarono e dopo qualche altro istante Jack scese la cresta dietro di loro. Sorella si fermò nell'acqua gelida che le arrivava alle caviglie. «Lascia che tenga io il tuo accendino, Beth!» disse. L'altra donna glielo diede, ma lei non lo accese ancora. Afferrò la mano di Beth. Quest'ultima prese quella di Artie e l'uomo afferrò quella della donna spagnola. Jack Tomacek chiudeva la fila. «Va bene». Sorella sentì la paura nella propria voce e sapeva che avrebbe dovuto fare il prossimo passo prima che le crollassero i nervi. «Andiamo!» Iniziò a camminare intorno ai relitti dei veicoli, entrando nell'Holland Tunnel. E l'acqua crebbe fino ad arrivarle alle ginocchia. Dei ratti galleggiavano in essa, come tappi di sughero. A meno di tre metri dentro la galleria, l'acqua le arrivava alle cosce. Accese l'accendino e la sua misera fiamma si illuminò. La luce rivelò una fantasmagoria da incubo di metallo incastrato davanti a loro. Auto, furgoni e taxi piegati in forme semisommerse e aliene. Le pareti della galleria erano nere per il fuoco e sembravano assorbire la luce invece che rifletterla. sorella capì che doveva esserci stato un inferno terribile là dentro, quando tutti i serbatoi di carburante erano esplosi. A distanza, molto più avanti, sentiva il rumore riecheggiante di una cascata. Tirò avanti la catena umana. Intorno le galleggiavano cose che evitò di guardare. Beth emise un piccolo ansimo di terrore. «Continua a camminare», le disse sorella. «Non guardarti intorno. Continua a camminare». L'acqua le risaliva lungo la coscia. «Ho calpestato qualcosa!» esclamò Beth. «Oh Gesù! C'è qualcosa sotto il mio piede!» Sorella le strinse forte la mano e la fece proseguire. Dopo aver percorso un'altra mezza dozzina di passi, l'acqua aveva raggiunto la sua vita. Si guardò alle spalle, verso l'entrata, che adesso si trovava a circa venti metri dietro di loro e l'attirava con la sua luce torbida. Ma tornò a rivolgere l'attenzione a quello che c'era davanti. E immediatamente il suo cuore saltò un battito. La fiamma dell'accendino scintillò su un enorme e contorto ammasso di metallo che bloccava quasi del tutto la galleria. Una pila, di quelle che erano state delle auto, fuse insieme dal caldo. Sorella trovò uno spazio stretto per passarci intorno, con i piedi che scivolavano su qualcosa di viscido sul fondo. Adesso dall'altro lato stavano cadendo dei rivoli d'acqua e Sorella si concentrò per tenere asciutto l'accendino. Il rumore della cascata era ancora davanti a loro. «Sta per cedere!» grido Jack. «Dio, ci sta per crollare addosso! Continua a camminare!» gli urlò contro Sorella. «Non fermarti!» Eccetto che per il fioco bagliore della fiamma, davanti a loro c'era un'oscurità totale e imperscrutabile. «E se fosse bloccata?» pensò, e sentì crescere la sua paura. «E se non ce la faremo?» «Calmati!» «Un passo alla volta!» «Un passo!» L'acqua le raggiungeva la vita e continuava a salire. «Ascoltate!» disse Beth di colpo e si fermò. Arti si scontrò con lei e quasi scivolò nell'acqua sudicia. Sorella non riusciva a sentire nulla, tranne l'incessante rombo della cascata. Iniziò a tirare Beth e allora sopra di loro si udì un profondo suono lamentoso. «Siamo nella pancia della bestia», pensò Sorella. «Come Giona? Ci sta ingoiando vivi?» Qualcosa cadde nell'acqua davanti a lei. Altri oggetti in caduta rimbalzarono fragorosamente sulle auto, come se fossero martelli da fabbro al lavoro. Pezzi di roccia, si rese conto. «Buon Dio! Il soffitto sta per collassare!» «Sta crollando!» urlò Jack, sul punto di soffocare per il terrore. Sorella lo sentì trascinarsi nell'acqua e seppe che i suoi nervi avevano ceduto. Si voltò indietro e riuscì a vederlo mentre si affannava selvaggiamente per tornare nella direzione da cui erano arrivati. Scivolò nell'acqua e risalì in superficie singhiozzando. «Non voglio morire!» gridava. «Non voglio morire!» e il suono delle sue urla lo seguiva nella sua scia. «Nessuno si muova!» ordinò sorella, prima che anche gli altri fuggissero. Le rocce stavano ancora cadendo intorno a loro e lei strinse la mano di Beth così forte che le sue nocche schioccarono. La catena tremava, ma reggeva. Finalmente le rocce cessarono di cadere e anche il suono lamentoso si fermò. «State tutti bene? Beth? Artie, la donna sta bene?» «Sì!» rispose lui scosso. «Credo di essermi cagato addosso, però! La merda posso gestirla, il panico no! Andiamo o no?» Gli occhi di Beth erano vitrei. «È traumatizzata», pensò sorella. «Forse era la cosa migliore». «Arty, sei pronto?» chiese. E tutto ciò che l'uomo riuscì a fare fu grugnire. Continuarono ad avanzare nell'acqua che stava salendo verso le loro spalle. Ancora non si vedeva una luce davanti, nessun segno di un'uscita. Sorella trassalì quando un pezzo di roccia della dimensione di un coperchio di tombino colpì un furgone distrutto a circa tre metri di distanza. Il rumore della cascata era più vicino e sopra le loro teste la galleria gemeva per lo sforzo di trattenere il fiume Hudson. Sentì una debole voce alle loro spalle. «Tornate indietro! Per favore! Tornate indietro!» Augurò il meglio a Jack Tomacek. E poi il ruggito della cascata. Sovrastò la sua voce. La sua borsa era piena d'acqua e i suoi vestiti la tiravano con forza verso il basso, ma teneva l'accendino sollevato sopra la testa. Era insopportabilmente caldo nella sua mano, ma non osò spegnere la fiamma. Sorella riusciva a vedere il suo fiato condensarsi nella luce, con l'acqua che le intorpidiva le gambe e le irrigidiva le ginocchia. «Un altro passo», decise. «Poi il prossimo continua a camminare!» Passarono sotto un altro mucchio surreale di veicoli fusi e la donna spagnola urlò di dolore quando una scheggia di metallo sott'acqua le tagliò la gamba, ma strinse i denti e non cedette. Un po' più avanti il piede di Arti restò incastrato in qualcosa e lui andò sott'acqua e riemerse sputacchiando e tossendo, ma stava bene. A quel punto la galleria faceva una curva e sorella disse «Fermi!». Davanti a loro, scintillante nella debole luce, c'era un torrente d'acqua che cadeva dall'alto, largo quanto l'intera galleria. Avrebbero dovuto attraversare la cascata e sorella sapeva cosa significava. «Adesso devo spegnere l'accendino fino a quando non saremo passati dall'altro lato», disse. «Che ognuno si tenga forte. Pronti?». Sentì Beth stringerle la mano e Arti gracchiò. «Pronto!». Sorella chiuse il coperchio dell'accendino. L'oscurità consumò tutto. Il suo cuore stava battendo all'impazzata e strinse protettivamente l'accendino nel pugno e iniziò ad avanzare. L'acqua la colpì così duramente da mandarla giù. Perse la mano di Beth e sentì la giovane donna urlare. Sorella tentò freneticamente di rimettersi in piedi, ma c'era qualcosa di viscido e unto sul fondo. Aveva acqua nella bocca e negli occhi. Non poteva respirare e il buio le fece perdere il senso della direzione. Il suo piede sinistro era intrappolato e trattenuto da un oggetto sommerso ed era molto vicina a emettere un urlo. Ma sapeva che, se l'avesse lasciato uscire, erano tutti finiti. Agitò la mano libera, tentando di tenere sollevato l'accendino con l'altra e delle dita le afferrarono la spalla. «Ti tengo!» gridò Beth, con il suo stesso corpo colpito dalla cascata. Lei diede stabilità a sorella, che divincolò la gamba con uno sforzo che quasi le strappò la scarpa dal piede. Poi fu libera e si mosse di nuovo, guidando gli altri lontano dall'ostacolo. Non sapeva quanto ci avevano messo a superare la cascata. Forse due minuti, forse tre. Ma di colpo furono dall'altro lato e lei non annaspava più in cerca d'aria. Il cranio e le spalle le dolevano come se fosse stata usata come una sacca d'allenamento. «Ce l'abbiamo fatta!» gridò e li condusse oltre, fino a quando il suo fianco colpì del metallo. Poi riprese di nuovo l'accendino tra le dita e tentò di accenderlo. Ci fu una scintilla, ma nessuna fiamma. «Oh Gesù!» pensò sorella. Tentò di nuovo. Un'altra serie di scintille, ma niente fiamma e niente luce. «Forza! Forza!» nemmeno la terza volta ebbe fortuna. «Accenditi maledizione a te!» Ma non lo fece. Né al quarto, né al quinto tentativo, e lei pregò che l'accendino non si fosse bagnato troppo per accendersi. All'ottavo tentativo comparve una debole fiammella. Ondeggiò e quasi si spense di nuovo. «È quasi finito il liquido!» si rese conto. «Dovevano uscire da lì prima che si consumasse del tutto», pensò. E prima di allora non aveva mai saputo quanto la sanità mentale potesse dipendere da una piccola fiamma sfarfallante. Accanto a lei, la griglia schiacciata del radiatore e il cofano di una Cadillac sporgevano dall'acqua come il muso di un alligatore. Davanti a lei, un'altra auto giaceva capovolta, quasi del tutto sommersa con gli pneumatici a brandelli. Si trovavano in mezzo a un labirinto di rottami, con il loro cerchio di luce che era appena una frazione di quello che era stato prima. I denti di sorella avevano iniziato a battere e le sue gambe erano come geli di blocchi di piombo. Andarono avanti, un passo cauto dopo l'altro. La galleria già mette di nuovo sopra di loro e altre macerie caddero, ma ad un tratto sorella si rese conto che l'acqua era scesa fino alla sua vita. «Ne stiamo uscendo!» gridò. «Grazie a Dio, ne stiamo uscendo!» strinse gli occhi per vedere se c'era luce davanti, ma l'uscita non era ancora in vista. «Non fermarti! Ci sei quasi!» inciampò in qualcosa sul fondo. Un gorgoglio di bolle le esplose in faccia e dall'acqua davanti a lei emerse un cadavere, annerito e raggrinzito come un pezzo di legno, con le braccia irrigidite sopra il volto e la bocca spalancata in un urlo muto. L'accendino si spense. Il cadavere si appoggiò alla spalla di sorella, nel buio. Lei restò immobile, con il cuore che le stava per esplodere dal petto, e seppe che in quel momento poteva perdere la testa o... fece un respiro che la fece rabbrividire e spinse via quella cosa con l'avambraccio. Il cadavere affondò di nuovo, emettendo un suono simile a una risatina. «Riuscirò a tirarci fuori da qui», sentì promettere a se stessa, e nella sua voce c'era una forza caparbia che non sapeva di possedere. «Fanculo al buio! Noi usciremo!» Fece il passo successivo, e quello dopo ancora. Lentamente, l'acqua scese fino alle ginocchia. E, quanto tempo e passi più tardi, sorella non lo sapeva, vide davanti a loro l'uscita dell'Holland Tunnel. Avevano raggiunto la spunta del Jersey.